Ivan Nicosia, com'è che un resoconto così dettagliato sul terremoto del 1693 è rimasto chiuso in una biblioteca? Bella domanda, questa però dovremmo farla diciamo al cerchio degli intellettuali catanesi che finora non se ne sono occupati perché tutti l'hanno sempre citato ma nessuno se ne è mai occupato di fare un'edizione critica o comunque di pubblicarlo nella sua interezza. La sua scoperta centra con la lettura di De Roberto, l'autore dei Vicerre, che indica questa Catania destrutta di Guglielmini come una pietra angolare di quello che è il reportaggio storico del grande terremoto. Sì, in realtà De Roberto in questa guida che fa su Catania cita quest'opera tra l'altro mettendola molto in secondo piano però citandola proprio per il fatto che descrive com'era la cattedrale poco prima del terremoto quindi una testimonianza molto importante ed è dalla lettura da questa fonte che ho iniziato in pratica a vedere di recuperare questo testo che era una copia pregiata, rara, custodita nelle casseforti delle biblioteche catanesi insomma quindi anche diciamo la fruizione non era facile. Guglielmini elenca con dovizia di particolare competenza molti dettagli di opere che sono opere pittoriche soprattutto si dice che lui fosse un pittore, opere che sono andate perdute e poi fa un elenco delle famiglie nobiliare quindi dei cognomi dell'epoca. Questo rende ancora più interessante questo libro da lei recuperato? Certo, lui inizia proprio raccontando prima un po' la storia di Catania rifacendosi a tutti gli storiografi del diciamo del 600 quindi prendendo proprio a piene mani e tingendo alla storiografia dell'epoca e poi proprio il suo obiettivo è quello di raccontare il terremoto quindi racconti in maniera cinematografica gli eventi del 9 dell'11 gennaio e poi questo l'obiettivo principale della sua opera era quello di raccontare come era architettata Catania poco prima del sisma ed essendo lui un pittore riesce perfettamente a descrivere alcune opere che erano all'interno delle chiese più importanti della città. Il fatto che abbia firmato l'opera con un alias, un nomignolo come Indo Muglielgini non vuol dire niente mica poteva cilarsi dietro un alias perché in realtà l'opera poi porta come lei spiega nel frontespizio esteso e estesa la sua firma. Sì perfetto era diciamo un gioco dell'epoca lui aveva già pubblicato anche un'altra opera con un altro pseudonimo era una cosa che nel 600 si faceva parecchie volte poi in realtà c'è un piccolo caso che ancora è un giallo tutto da scoprire perché guarda caso parte di questa cronaca che fa il Guglielmini riproduce quasi diciamo pari pari quella che era la cronaca famosa quella più diciamo diffusa anche perché è breve di Alessandro Burgos proprio sul terremoto e quindi evidentemente tra i due ci sono stati dei contatti tra l'altro pubblicano per lo stesso editore anche se a distanza di anni ed è strano perché Guglielmini cita sempre le sue fonti e non cita Burgos però nella prefazione ha una nota critica contro qualcuno che evidentemente aveva il vizio di copiare senta nella prefazione del geologo e divulgatore Mario Tozzi, Tozzi sottolinea come in realtà 325 anni dopo quel big one in realtà quel grande terremoto non si è servito a nulla per noi siciliani per noi catanesi in particolare in tema di prevenzione sul rischio sismico ed è un'analisi impietosa quella che fa Tozzi. Sì purtroppo sì infatti l'altro diciamo filone che segue la mia opera proprio questa una sorta di sensibilizzazione a questo rischio che purtroppo per noi è sempre continuo.